Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nostro canale Oggi facciamo Lego Avengers Della Marvel Eh si, con i supereroi proviamo un po' questo gioco Non l'abbiamo mai fatto, noi abbiamo fatto solo l'altro Prima volta eh Si, l'abbiamo fatto un altro che poi vi faremo vedere Che non ci ricordiamo malapena Lego Super Heroes forse l'abbiamo fatto Lego Super Heroes Si, io non mi ricordo niente di quell'altro Quindi ve lo possiamo far vedere Io, cioè, ho la memoria uova Allora pronti, si parte Proviamo questo nuovo gioco eh Eccoci, cos'è? Uh Tutto Tutto un po' tetro qua eh Tutto tetro Almerito Non è un'esercitazione Siamo sotto da un'altra Ah si Io l'ho fatto da sola Ma è difficile È bello questo Cavolo si è bello L'abbiamo fatto Io l'ho fatto poco Ho fatto solo un livello Siamo quasi pronti Finisce il film Ah io sono Capitano America io eh No in questo In questo pezzo no Mi sembra che c'era Pulque No No? Adesso guardiamo Mi sembra che c'era Thor E un'altra E un'altra che non mi ricordo Iron Man Ah no quello con l'arco forse Eh ma Sì Ecco Ragazzi che bello In game Ui sono quello con l'arco Io sono la ragazzina Io c'ho le spade laser Brava Oh è caduto Scusa ti hai rivolto alla scena per caso? No Bì 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 Ah Eh mi buttano giù Uh cosa bisogna fare qua? No perché io mi confondo a personaggi Ok Io volevo farlo io Non sapevo che toccava a te Ok adesso dovranno passare dei massi tra poco Nel fiume Cos'è sta roba? Ok qualcosa è capitato Non si sa cosa Eh io sono brava eh Hai visto quanto sono palestrata? Ok Qualcosa c'è da fare Ah l'ha detto Ho messo il Ma sono la fidanzata di questo qui? Ma non lo so Non penso eh Perché c'era anche la fidanzata Attenzione Eh sì Qua devo usare un cannone Vedi quel cannone Ah Devi sparare contro di loro Non vieni tu? Poi ti spiego Dai vieni Eh ti ho detto che posso fare io il cannone Che mi piace E fa quello che vuoi Vanessa Io Gioca Ah devi aprire qualcosa qua Tocca a te E tu vuoi Ah ah Ragazzi è difficile questo pezzo eh Molto Che salta tutto per a Perfetto Adesso non lo spallare Oh arrivano Oh due pistole Non solo Altre cose Due Allora qua Ci mettiamo un secondo Io c'ho due armi Papà Brava Io c'ho Sia le pistole Oh Divento invisibile 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 Cosa c'è qua? Una bomba Già che ci sono Una bomba Sono le bombe da far esplodere B Papà C'è qualcosa Dice che devi venire te Vieni qua vicino B Schiaccia B Schiaccia B Ecco qui Eh dobbiamo andare assieme Vedi Abbiamo perso il fattore sorpresa Qualcuno si occupa di quel bunker Eh non è facile Ulk Brava Adesso ci abbiamo Ulk E appunto il robo lì Ecco sono io Quello che vola Credo No Tu sei Ulk Ulk Spacca Guarda che bello Uh Cosa bisognerà fare qua Guarda ti aiuto Sollevo i massi Io posso rompere le cose dorate Quali saranno quelle da sopra Fammi un po' vedere Sì sono le corde Le cose dorate sono corde C'ho il laser Spacco tutto Taglio tutto Taglio tutto ragazzi Sono troppo potente Iron Man Poi io volo Ero man cattivo Ma che volo eh guardate Ma che volo Eh lo sai che potevi già andareci prima lì Volando Davvero eh Eh ma devo far passare anche te Eh o no Hulk Faccio io faccio io Faccio io papà Faccio io Va bene fai Adesso abbiamo un capitano america Capitano america Con Thor Me lo ricordavo Ragazzi Riproviamo tutti Riproviamo tutti Voglio fare io tor Sì Io posso volare col mio martello Hai visto che bravo sono Tu puoi spegnere il fuoco Ah va bene Cosa sono questi qua che volano qui Oì Aiuto Pulazzano come dei fringuelli Ma io non posso picchiare Mentre che volo Ah no No Non puoi neanche lanciare il martello No No non credo Io lancio lo scudo Guarda un po' Mi lancio lo scudo addosso Io posso lanciare però Eh vedi Oh no Sono caduto anch'io Ma non è possibile Oh Cascito qua Che Mossa super potente Comunque non abbiamo ancora capito Cosa dobbiamo fare Dobbiamo passare di là Ok Adesso Ti ho fatto il passaggio Perché io potevo solamente Andare volando No ho capito E tu non puoi volare Uh adesso qui Eh B A Ua che sportivo Eh Uella Un secondo Un po' Cosa sono Non dire me Che so volare Con un martello Ma Però Attenta eh Qua c'è qualcosa C'è il tuo simbolo Ok Bravissima Attenzione alle torrette Adesso qua È una grana ragazzi Qua Qua devo spegnere il fuoco Giusto? Sì Ragazzi Eh Ma allora Siamo anche un po' Tamastifio eh Qua ho spento Qua ci sono dei tubi Da Devi fare qualcosa Qui brava Se riusciamo a rompere Eh Il tuo pezzo Papà Attenzione Devi lanciare lo scudo Sopra Dici Sì Allora Me lo ricordo Sì Sì Power Adesso Attento Aprono i cattivi Uh Nessuna resa Per l'idra Carica 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 Ok Alleluia Ce l'abbiamo fatta Capitan Capitan America Non l'avevo mai fatto Questa parte Io Mai Uh Bello Upp nice Qua c'è da lavorare Uh Vediamo chi siamo Questo è bello Ah io sono questo qua Ah Capitan America Dobbiamo sbarazzarcene In modo che il Capitano Rogers Possa trovare un'entrata Io sono Iron Man Ok Non capisco cosa devo fare Oh mio figo È figata Figata Forza Forza Guarda Guarda Si Che bello sto castello Eh Si Uh Io sono fuori Oh scusa Te l'ho lanciato te Va bene va bene Dobbiamo distruggere i cannoni Dobbiamo distruggere i cannoni Guarda Guarda il laser Guarda il laser Guarda il laser Mi piace Mi piace volare i cannoni È bello eh Si Mi piace volare con Iron Man Si Uh Quanto vogliono questi paesi E' pure il mio preferito Iron Man All'attacco E due E l'altra non so dov'epero Adesso c'è ancora un cannone da qualche parte Ecco l'ho trovato Io cosa sto facendo Sto uccidendo un miliardo di mostri L'ho trovato Eccolo Oh Uh Era ora eh Prego Oh Ecco Oh si è atterrato finalmente L'invasione Glielo lasciamo portare via Uh 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 Ok livello completato ragazzi Modalità partita libera sbloccata Ce l'abbiamo fatta Uh 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 Grandi Abbiamo preso una botta di roba Hai visto quanta roba che abbiamo fatto C'è vero Avenger anche mi sembra che siamo riusciti a fare Guarda Guarda quanti uomini che hai bisogno a fare Sono tantissimi Ma guarda quanti ne abbiamo già sblocati Sì ma guarda quanti ce n'è da sbloccare Anche è pieno Supereroi A manetta proprio Hulk Thor Poi ci sono tutti quelli sotto già sbloccati Bello e quanti, Capitano America Grazie a tutti